bella a tutti ragazzi su mattos93 bentornati sul mio canale oggi vi porto questo video di league of legends dove vi mostrerò una partita dove io gioco jungler con volibear appunto era una partita ormai persa la nostra top laner purtroppo era caduta diciamo era persa perché nasus adesso non mi ricordo dopo quanti minuti ha deciso di andare a afk per chissà quale motivo cioè ha proprio abbandonato la partita quindi avevamo contro xinzao in top e aveva libertà di farmare e di far quel che voleva in poche parole era il più fidato della sua squadra xinzao e il mio team come poi vedrete dal video faceva pena veramente ragazzi io non dico di essere bravissimo però il mio dovere l'ho fatto come jungler e voglio mostrare questo video appunto perché da una partita ormai persa diciamo volevamo pure sorrendere ma alla fine abbiamo deciso di continuare di diciamo riunirci come gruppo e di cercare di fare qualcosa piuttosto perdere ma da testa alta scusate e niente alla fine ho creato io il game da jungler cosa che non dovrebbe succedere diciamo in un team dovrebbe carriare un mid laner un top laner un ad carry piuttosto però l'ho fatto io da jungler anche perché io come jungler mi diverto e niente quindi signori io vi lascio il video adesso vi lascerò le parti più importanti dove vi farò vedere anche le varie scritte di prese per il culo anche da parte di xinzao questo video in poche parole cosa consiste consiste nel dirvi voi non flammate il vostro team perché poi sarà peggio continuate a giocare fate il vostro dovere farmate fate quello che dovete e se voi riuscite a riunire il gruppo come ho fatto io nel senso che ho detto di seguirmi al mio team di far quello che facevo io parlavo anche malfight che è una squadra con me di ultare al momento giusto eccetera e alla fine abbiamo vinto vi lascio il video spero vi piaccia lasciate un like commentate condividete vi ricordo di seguirmi su instagram bella ragazzi al prossimo video 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 bella ragazzi al prossimo video